e se a un certo punto durante la mia curva trovo un bello strato di ghiaia come faccio a salvarmi io sono daniele e questa è motocicletta team oggi parliamo di come affrontare durante una curva su strada della ghiaia quella odiata ghiaia è invisibile non si vede la vediamo all'ultimo e come dicevamo in un vecchio video sono proprio palline che rotolano sull'asfalto quindi come devo fare questa situazione la possiamo salvare solo e soltanto se guidiamo ogni volta con la testa non affidiamo al caso le nostre curve non ci affidiamo al cento per cento alla sorte alle gomme di ultima generazione alla miglior moto in commercio ma ci affidiamo alle nostre capacità e dobbiamo essere consapevoli che se abbiamo una buona tecnica di guida una buona postura e coscienza di ciò che stiamo facendo ci salveremo forse anche dalla ghiaia eviteremo di rovinarci le carene sull'asfalto considerato questo guardate i video in descrizione dove spiego un po' la curva ad alta velocità dove spiego la curva sul bagnato e tutte le varie tecniche di guida per capire bene di cosa stiamo parlando quando arrivo in curva e con un colpo d'occhio allenato vedo la mia ghiaia ma è troppo tardi per evitarla allora cosa faccio come affronto la situazione sicuramente cambiando la postura non pensando energicamente sull'anteriore o anche sul posteriore non dobbiamo buttarci sui freni perché ci siamo spaventati ma dobbiamo affrontare la ghiaia a secondare i movimenti della moto che sicuramente perderanno aderenza se ci spaventiamo ci buttiamo sui freni la caduta è assicurata se invece riusciamo a cambiare postura e adesso lo vediamo raddrizzare la moto al momento giusto e poi dolcemente sui freni andare a salvare la situazione è un discorso difficile da affrontare in un video è pieno di varianti è un discorso assolutamente da corso dove prima si fa pratica bene sulla ghiaia si capiscono le sensazioni che ci dà la ghiaia sotto le gomme capiamo come frenare come curvare e poi si può fare la prova di cambio di terreno dall'asfalto alla ghiaia adesso vi faccio vedere un po cosa intendo e ne parliamo appena finisco allora vediamo in diretta cosa succede affronto la mia curva molto piegata raddrizzo non ho toccato il freno anteriore rifacciamolo arrivo non proprio piano ma una bella velocità affronto la mia curva dopo aver frenato breccia raddrizzo metto anche il piede interno alla curva pronto a dare una zampata se serve ho cercato così di illustrare un po la situazione spero sia chiara rispondo già alla prima domanda e ma con un endurona è più facile si con una moto come la mia di questo genere in durona è più facile le ruote sono più alte più predisposta per questo tipo di terreno è vero ma quello che dobbiamo sempre tenere a mente è che se guidiamo con la testa sulle spalle so che sono discorsi ovvi però anche queste situazioni riusciamo a salvarle se con un endurona sarà un salvataggio più facile ma usiamo questo termine con una stradale pura ovviamente sarà più sporco come salvataggio meno pulito ci farà spaventare di più ma con la postura giusta la velocità adeguata vedremo forse in tempo la nostra breccia o la nostra acqua per terra e forse riusciamo a salvare le carene ragazzi come sempre io vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video spero vi sia piaciuto lasciatemi commenti se c'è qualcosa che non è chiaro che non ho spiegato bene scusate sempre per l'audio le sto provando tutte ma non riesco a trovare una soluzione comoda da portare sempre in moto facile da attaccare alla gopro e al telefonino che siano compatibili e che non ingombrino e che non costino l'occhio della testa va bene ragazzi ciao e grazie grazie